Con 687 tra abitazioni, terreni, capannoni artigianali e industriali, la Toscana è al nono posto in Italia per il numero di beni sottratti alla criminalità organizzata e presenti sul suo territorio. La provincia, con il maggior numero di proprietà confiscate alle mafie, risulta quella di Grosseto, seguita da Pistoia e Prato. La Toscana si sta muovendo dal punto di vista materiale attraverso uno stanziamento di fondi in bilancio molto rilevante, ma anche e soprattutto con una convinzione che ci sia la necessità di supportare gli enti locali in questo percorso importante di acquisizione e valorizzazione del bene. E' un bene sempre problematico quello a cui stiamo facendo riferimento, quindi magari ha problematiche anche di tipo edilizio, ha delle problematiche di ristrutturazione, quindi richiede un intervento e un supporto da parte di qualcuno che sia in grado, la Regione in questo caso, di supportare gli enti locali, soprattutto quelli più piccoli.